Torniamo a parlare di Natale Restrizioni, ci si avvicina a una festività dettata da un clima di emergenza, si intensificano ovviamente i controlli su più fronti, collegato con noi Lamberto Giannini, direttore centrale della Polizia di Prevenzione, ben ritrovato e benvenuto alla News24. Buongiorno, buongiorno a lei. Ecco, prefetto, negli ultimi anni l'attenzione al periodo natalice è stata rivolta soprattutto all'allerta attentata e all'allerta terrorismo, ovviamente quest'anno i timori sono diversi, esistono però comunque segnali per cui non bisogna assolutamente abbassare la guardia sul rischio di attacchi in Europa e nel nostro paese. Beh, anche quest'anno come negli altri anni sul web esiste una pubblicistica importante ad opera di Daesh, ad opera di formazioni terroristiche che mandano minaccia verso l'Occidente e verso i vari paesi promettendo attacchi. Per questo è necessario avere la massima attenzione, la massima vigilanza e lo sforzo estremo. Recentemente si sono state fatte due operazioni che hanno riguardato due soggetti che proprio dall'interno delle loro abitazioni recepivano queste indicazioni, attraverso il web si addestravano, si preparavano e venivano diffuse e diffondevano materiale di questo tipo giadista. Senta, per molti mesi si è anche parlato in Italia di un rischio autunno caldo dal punto di vista delle proteste e del disagio sociale. L'autunno è passato, cosa resta di questo rischio? Beh, la situazione, ci sono state diverse manifestazioni, in alcuni casi ci sono state delle intemperanze ma mi sembra che nella stragrande maggioranza dei casi le cose siano andate piuttosto bene, anche perché hanno fatto notizia lì dove ci sono state delle criticità, dei problemi che comunque mi sembra che siano stati gestiti. Ci sono stati diversi anche provvedimenti, denunce, arresti. Ma la stragrande maggioranza delle persone che hanno manifestato il proprio dissenso, il proprio disagio in questo momento lo hanno potuto fare assolutamente in tranquillità e con tutte le garanzie. Ecco, tra pochi giorni tutta Italia sarà zona rossa, le forze dell'ordine ovviamente stanno organizzando un piano straordinario di controlli. Quale messaggio va mandato ai cittadini secondo lei? Ma a mio avviso il messaggio è quello di attenersi alle regole, è un momento in cui serve una grande responsabilità da parte di tutti e noi chiaramente ci saremo, ci saremo per questi controlli ma ci saremo anche per dare il messaggio rassicurante della presenza delle forze dell'ordine, della presenza dello Stato in un momento che è un momento obiettivamente difficile per via di questa pandemia. Grazie davvero Lamberto Giannini, direttore centrale della Polizia di Prevenzione per essere stato con noi a Rai News 24. Grazie a voi, grazie a tutti.